1, 9, 3, 6 La patatina più buona del mondo è nata nel 1936 La mangiam tutti da una vita e se le mangi troppo poi ingrassi troppo 1, 9, 1, 9, 1, 9, 3, 6 1, 9, 3, 6 le patatine sono state create dalla San Carlo a Milano Queste patatine hanno una storia che dice che la patatina Ta ta ta, scocchiarella la la la, indulata ta 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 È nata ta 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 nel 1936 A Milano la rostricceria San Carlo era una delle più famose ma poi hanno creato le 1936 Ed è diventata la migliore ed è diventata la migliore Ne la mangiam tutti da una vita e se le mangi troppo poi ingrassi troppo 1, 9, 1, 9, 1, 9, 3, 6 Questo è lo speciale 300 iscritti ma farà 1900 Uuuuuh Trentasei La patatina più buona, la patatina più buona del mondo è italiana La patatina più buona del mondo è nata nel 1936 936, la mangian tutti da una vita e se la mangi troppo poi ingrassi troppo 1 9 1 9 3 1 9 3 6 1 9 1 9 1 9 3 6